da reginetta di bellezza a boss della droga è finita a buenos aires la fuga di angi san clemente valencia 30 anni miss colombia e poi modella per una casa di lingerie che era ricercata in tutto il mondo per aver messo in piedi una rete di corriere della droga fatta esclusivamente di belle ragazze che volavano in business class mia figlia è vittima di un complotto ha orlato la madre di angi dopo il suo arresto in un ostello di palermo quartiere della capitale argentina la giovane era in fuga da dicembre quando era stato emesso contro di lei un ordine di custodia una delle sue ragazze era stata arrestata all'aeroporto di cancun in messico dove stava per imbarcarsi su un board diretto in europa portando con sé 57 chili di cocaina fallito il tentativo del suo avvocato guillermo tiscornia di spacciare la latitanza per paura di essere stuprata in carcere angi è rimasta nella lista dei ricercati fino al suo arresto nel 2021 anni aveva vinto il concorso di reginetta del caffè uno dei più prestigiosi di colombia